ti ragazzi benvenuti a questo nuovo entusiasmante video sono il vostro extigami da legnata entusiasmante prima di tutto tra virgolette oggi non sei entusiasmante facciamo prima ma benvenuti a questo video mai entusiasmante io sono extigami da legnata extigami da legnata non si è sentito extigami da legnata sulle extigami da legnata e sulle aziende sarai visto barbacca aiutti a strumento l'ho detto faccio parte lo stesso canale con piacere piacere il piacere è tutto mio state se ne è la piacere tu ho fatto uno strumento tu benissimo crede che c'è una scherzo ho trovato che dobbiamo lo schermo pieno di sputti iniziamo ok allora abbiamo finito di dd diciamo che la nostra slender iniziamo ho sentito dal nostro xd capite il xd baru brah cacca che è anche il caro che esiste un modo per battere il santo di gioco spiega spiega su me adesso ve lo spiego però prima devi iniziare altrimenti non ce la mamma venire in mente ma c'era mappina ecco c'è la mappa aspettino mezzo che ci penso io alla macchina canzone ci penso io alla mattina dov'è la mappina 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 nel frattempo iniziamo la mappina è morta è morta la mappina e vai è morta la mappina devi andare a fa foto nel menu principale vai a foto nel menu principale ok mappina foto verso Mali è una delle ultime quindi prendi su vai su ci arrivi già fai prima vai sopra vai sopra vai sopra e si però pure tu vai su ah eccola qua in poche parole vai spieghi ecco la quanta ma eccola qua non guarda il suo bambacca allora stavolta fa e come dico io poi se cazzo mai perdiamo per la prima volta vuol dire che il mio è stato pieno di merda si pensa il percorso è sempre lo stesso prima dobbiamo andare al lillo no come cazzo si chiama nega lito al super mega suppostune si super mega suppostune sempre giusto mega suppostune speriamo che non ci sta così se non ci sta la pagina la slender non ci fotte andiamo in eccessi poi vero? poi il mura x ma già te lo spiegate il piano allora spiegarlo tu no scusa no no allora fammi parlare a me devi spiegarlo tu grazie e allora stai zitto per piacere un momento soltanto aspetta il seno di cosa? il seno di culo il seno di culo il seno di culo aspetta che devo trovare il risultato del coseno di cosa coseno di cosa eh no è zero è zero è possibile prima pagina prima pagina al mega dildo adesso dobbiamo andare all'interno cioè verso i cessi e i lildo barlotti bene ok andiamo nel cesso 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 cessino cessone cia 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 ma che si è bloccato? si si è bloccato questo si blocca sempre è una bambina leggermente obesa molto obesa dovrebbe riprendersi con un po' di camomilla perché infatti ma la sera prima di andare a dormire non può mangiare un po' con leggero no niente deve sempre abbuffarsi con dei panini con gli occhi anche sembra giusto ma come sembra giusto ma che ne so io la caccarota vabbè e andiamo avanti cosiddetto di cosa? vabbè vabbè abbiamo capito che il risultato è zero eh sì dove stai andando? non ne ho la minima idea e dove ti ho detto di andare? eh c'è sì non sto capendo niente ma come non sto capendo niente sto capendo un cazzo io non mi trovo accesso mi trovo accesso mi trovo nel grande spiazzale del cesso eccolo l'accesso lo trovo sta qua bene adesso è sbagliato strada non stavo scherzando non stavo scherzando ehm penso di avermi indovinato perché non mi indovino mai eh mi dispiace eh che peccato vabbè e vai adesso accesso forse è meglio correre 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 attenzione dove vai si prende attestate al muro ok a sinistra c'è la pagina no non c'è la pagina fanculo la sedia non c'è ancora sminchiata lo slender ancora un cesso tutto sopra bene bene così guarda giù c'è una merda non la talenta andiamo avanti facciamo fondo di niente ah c'è la talenta di una parte sbagliata del cesso non fa niente entriamoci lo stesso da questa parte dovrebbe esserci la cazzo di pagina smilchio burger se non sta dall'altra parte direttamente vabbè se non sta dalla parte deve esserci per forza dall'altra parte non c'è da questa parte allora è dall'altra parte allora è dall'altra parte dobbiamo andare dall'altra parte domani vabbè bene così qui non c'è bisogno di correre andiamo calmi qui calmi calmi conserviamo l'energia per dopo nel cesso si può andare calmi quindi no certo nel cesso si deve andare veloce perché se uno se la fa sotto deve andare veloce questo è vero questo è vero questo è sì c'è ragione ma questo perché slender non ci sei già abbiamo visto perfetto e non devi esserci capito non ci devi essere fino a quando abbiamo preso letto le pagine soprattutto quando non abbiamo visto questa sedia infatti la sedia quale sedia quella sedia che abbiamo visto quale quale si sa no perché non ho visto nessuna sedia mi sa che ti sei sbagliato no non c'è e non mi direi che ti sei fottuta la pagina non dirmi che hai preveduto il mio piano no speriamo di non c'è la pagina qui non c'è vai a fare siamo già fottuti siamo già fottuti mi spiace eh scusa il tuo piano cosa deve dire nel cesso deve essere c'è nel cesso abbiamo controllato non c'è no forse io non sono nei lì lo cazzimotto eh se li lo vario nello cazzimotto mio dio nello cazzimotto che è scritto e si può essere se se con il corrispito ingratto riesco a vedere niente non riesco a fare la pagina tuttavia buona il tasto pausa è il tasto posto tasto pausa non sono insieme ma non lo so ah ecco lì mi è lontano adesso andiamo subito un muro visto che la parte difficile è il muro tanto è un mondo valente adesso tanto ma non tante benvenuti nene dove dobbiamo andare per il muro per il muro se sei seguito ti trovi già vicino al muro perché ti sei data testata al muro quindi sei vantaggio no a posto una zero una zero una zero si 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 stiamo una zero a slender ah tu stai perdendo finalmente mi sa che fai in serie a b slender ma nemmeno che cazzo no slender in serie s molto peggio che serie super sarebbe la serie delle super cacchette ah ah ora si spiega tutto cioè quando la slender si sede sulla sedia lascia la merda sulla sedia certo che potrebbe fare allora aspetta un momento allora se qui ci stanno i tronchi tagliati i tronchi tagliati dove dovrebbe essere no i tronchi tagliati vicino al muro cioè praticamente tu adesso dove sei che cazzo è giusto sto girando così come stai girando dove si prende la prima a destra infatti la prima a destra funzione ragazzi eh ma si libero no 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 non devo correre da quella parte dove devi correre se ci stai devo tornare indietro per forza per forza ma dove stai i tronchi tagliati l'hai visto tu? sono andato all'intuito perché poi ci dovrebbe essere una stradina qui da questa parte da queste parti dovrebbe esserci una stradina poi porta i tronchi tagliati quel giro da dietro quella roba se sta cazzo di cosa che sta dando fastidio ai telespettatori a casa all'un momento metto un attimo pausa e perché perché si è buggato sotto a merda spettatori eh no ok adesso ci sono ok togliamo questo togliamo questo togliamo qui togliamo qui e siamo fottuti e scritto un esilio del rinchi di gilman cilisi di gilman ok di più non aggiungere dunque dunque allora qui dovrebbe esserci per forza la stradina no la stradina non c'è purtroppo non vedo la stradina che porta i tronchi d'albero eh uh ecco il dono no quelli sono semplici alberi mi sa che dobbiamo tornare noi i dobarriotti ma poi come ti piace ma che cazzo eh se Slender sta dietro noi dobbiamo per forza tornare i dobarriotti se no se no ecco il dobarriotti dove abbiamo già preso la pagina oltre che al mega oltre che al mega dildo ma direi ora i tronchi tagliati dovrebbero essere da quella parte i tronchi tagliati i tronchi tagliati stanno da questa parte da questa parte sì stanno da questa parte no stanno da questa parte così così forse possiamo sfregare anche Slender possiamo andare anche al muro possiamo andare il problema è che si teletrasporta oddio ma chi è goku ma perchè non lo devi per forza ricordare che slender si teletrasporta perchè tu dici noi abbiamo un vantaggio noi continuiamo a dritto così noi abbiamo un vantaggio e cosa fa? si teletrasporta ovviamente ma può anche essere che si scorda che ha potere di teletrasportarsi noi abbiamo un vantaggio slender si scorda le cose tu perchè glielo devi ricordare perchè io devi ricordare? perchè devo ricordare qualcuno a qualcosa? e soprattutto perchè sopra questi cazzo di tronchi non c'è una pagina perchè lo slender si è enfilato nel culo risposta ovvia ovviamente ma come non c'è un cacchio neanche qua la pagina non c'è vabbè non c'è quella morte della pittona bene andiamo al muro vabbè andiamo dritti non abbiamo metto a cuore perchè ho visto interferenza slender è qua vicino ovviamente il teletrasporto lo usa sempre eh purtroppo purtroppo si adesso però dovevi tornare indietro devi andare al tunnel no no sto andando al muro no dove il muro? da quella parte forse aspetta il muro i tronchi stanno sto andando al tunnel te l'ho detto io oh perchè sto andando a tunnel ti conviene tornare indietro tornati indietro fin quando potete eh mi sa che troppo tardi davvero troppo tardi ma che che mano che dice troppo tardi eh fammi nominare l'ha detto i sti benigni adesso c'è anche la pagina adesso che culo no bastardo tu non c'hai tradito ma come c'è la pagina tunnel c'è tradito che cosa mi dici bastardo ecco qua il violino il violino slender fa schifo slender fa schifo con i negativi veramente schifo lo sai ma questo non era non lo so non lo so lo so se non ci fosse se non fosse apparsa interferenza se non fosse apparsa se non fosse apparsa se non fosse apparsa slender è colpa di slender che vuoi sembra luce c'entra ma devi rompere sempre tutto è il suo dovere purtroppo vabbè non vi preoccupate se falliamo adesso ci sta il prossimo tentativo stavolta lo seguiamo il tuo piano Daniel scusami ti confondo sempre con il mio amico il tuo amico immaginario si come il tuo amico immaginario Gabriele no io ho soltanto due amici immaginari uno si chiama Daniel e uno si chiama Carlo si comunque il camion il dovevi andare alla fine help me che cazzo ti vuole help me chi ti vuole aiutare aiutati da solo porco aiutati da solo porco aiutati da solo porco porco scusate per il porco scusate per il porco perchè il cane non è il tuo porco aiutati questa è l'altro camion ma ci sono news sport ma il suo amore l'altro 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 l'anno 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 se caso non abbiamo controllato attenzione ma non abbiamo controllato bene no lì non c'è abbiamo controllato quanto le stanze ma potanze che e se sta avvicino al camioncino rosso un'altra no o stavolta il camioncino o stavolta il camioncino o stavolta il camioncino o stavolta il camioncino o stavolta la casa si gira da solo sto merdo si gira da solo si gira da solo si gira da solo questo idiota che si gira da solo perchè 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 il nostro exiboniggy light tiri anche sonno no non lo so certe volte questo coglione di merda ci fa annoiare ho dei ma non si può aumentare la facilità ci dico io le opzioni sono che significa grass level livello dell'erba ma voi alta bassa no bassa bassissima bassissima 3 dettagli la nebbia scusa giusto d'esto fogg togliamo sta cacchio di nebbia è molto fastidio e poi aspetta che significa tree detail dettagli degli alberi e foglie i rami e come che facciamo se vuoi mettergli tutti i spogli oppure alberati no se li mettiamo tutti i spogli invece facciamo riconoscere appunto meglio alberato abbiamo tolto la nebbia quindi una serena nottata di ferragosto adesso che bello i cui si gela manguecani ecco ci mancava questo ci mancava questo si vede una differenza si infatti la differenza si vede gli alberi gli alberi infatti senza nebbia sono ancora più belli è veramente più bello stupendo stupendo veramente stupendo ma ora non sappiamo dove l'unica opzione che non ci sta è è vero l'unica opzione che ci sta non sappiamo non si può girare cioè niente la opzione e va bene basta che vediamo allora questa parte dove c'è anche il verde e l'erba si dove non c'è niente è la strada è il sentiero ok perfetto almeno almeno tu ci vedi meglio di me beh 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 sono contento te ne si accorgiamo che il termine basta basta ah si vede l'erbetta del sottobosco stavolta è lo slender a tagliare stavolta lo slender ma c'è la parte c'è la pagina brutto bastardo hai cambiato il nome del canale come vabbè ehm la stralasciando verdi adesso andiamo al cesso in tutto il cesso il cesso mi piace il cesso dove sto andando no sto andando indietro bene ah ecco di là devo andare ecco di là non ti confondo per questi capitale mia ti prego cercherò di non farlo grazie prego e lo devo dire in tutto il cesso 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 nessuno deve essere no ho sbagliato ma che cazzo e vai grande così maledetto sentiero del cazzo forse era meglio se un po' un po' un po' d'erba la dovevamo lasciare un po' d'erba la povera erba però la facciata troppo bassa lo sapevo troppo c'entra sempre lì mi ha detto stogli la nebbia e ha tolto quei miniutolombi giganteschi e vabbè vacca cazzo sowalletto f einzelco énergie un po' erba te la rasa miniature è rimasto soltanto ei trifogli fittolando al quadifoglio suon tri nume faccio l'alsun tutti voglio fries volanti voliti volanti volanti vit deve voglio avevo nota la g 90 informi e van attraverso lui è il mio fisico ma se nemmeno se stronti ma ecco qua sentito da essi dove deve essere forza questo è l'unico se guardate è un sentiero un bimbo ok basta il senso il mio amore a un bimbo fa credo di c sveglia 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 del centro del centro del centro del centro del centro del puttana lui fa mani un fatto di un po' 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 di roniquet potessi smettere di colore si dice se ecco la cosa stava finito il muro ecco meglio così sperava che adesso come se non tradirmi e non tradirmi cesso c'è altri non c'è il senso il senso il senso il senso è prima era sulla sedia prima non l'avamo vabbè andiamo direttamente no non c'è il riflesso degli spigoli ovviamente questi sono cartoncini e non pagine sono cartoncini in cartongesso e non pagine vieno di pallolini vabbè evitiamo di fare l'esplorazione del cesso e andiamo subito io se mi vado non riesco vedere niente perché siamo in lillo barilotto stavo andando stavo andando a fricontrulli lillo barilotto perfetto ma si va bene dai un'altra cosa sia un po' la testa fresca portano bene ah ma lo dice hai con me allora ammettere dove sei la città è la bivita è il solito pastore adesso dobbiamo andare a fare in culo adesso andiamo a lì e il violino e il violino a me non piace slender io l'odio 9 9 violina se la smetti di correre si tratta elettrica per lui no adesso lo dovremo andare al muro allora noi stiamo andando verso i dolmen allora noi stiamo andando verso i dolmen quindi se prendiamo la strada per di qua tra un pochino dovremo trovare anche il muro per forza dovremo i dolmen vedete è stato qua i dolmen allora perfetto i dolmen stanno qua e non ce la faccio quindi più che cazzo è successo più che cazzo è successo vedete c'è un c'è un c'è una linea interferenza dove c'è una linea interferenza mi chiuso non l'abbiamo non l'avete è l'importante è quello che abbiamo visto non dove l'avete scusa non l'idea che si capa da legare ho avuto un'allucinazione non farci caso credo avanti come si mette fosse ok e comunque dovresti girarti un po' perché forse ma tu cazzo sta qua se non dirmi che hai fatto del muro oddio non sai abbattuto il muro di la verità stronti ah l'ho vista pure questo l'ho vista l'ho vista slender non siamo cecchia noi l'abbiamo vista però sta andando sulle però sta andando se sta andando sulle perché sta andando sul muro perché sta andando sul muro ah sta andando sta andando a correre oh bravo 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 salò qua salò qua salò qua salò qua fermo 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 sta andando a adesso puoi guardare bravo corri 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 che culo di merda l'abbiamo fatto l'abbiamo distrutto lei l'abbiamo distrutto ma che cazzo ti dice non so sto andando a cazzo adesso nel tunnel vai 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 nel tunnel nel tunnel no no sul lei vai 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 corri nel tunnel nel tunnel sono dentro no sono fuori dal tunnel nel tunnel vai a fare il culo sto merda non vuole camminare che cazzo stai facendo i tronchi d'albero sono dietro di te infilateli nel culo cioè no no veramente ma come non vuoi infilateli nel culo no no veramente ho avuto ho avuto ho avuto l'attacco di panico quando vi sta slender vicino al muro e difenditi dal panico dai ma è ovvio che compare lì è ovvio che compare lì è normale lo cazzo sta sto cazzo lo so che è normale però non mi ci sono ancora abituato lo cazzo sta sto cazzo è il tunnel sarà l'altra parte guarda visto che inciampa guarda guarda una po' con questo inciampa guarda c'è la miseria guarda c'è questo è inciampa inciampa ma tu guarda che cazzo fa è una bezza speriamo che la torcia non si svinchi infatti no 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 ti prego no ti prego no abbiamo tolto la nebbia abbiamo tolto abbiamo tolto tutto quello che abbiamo tolto l'erba abbiamo tolto la nebbia no un'altra cosa che ci vorrebbe è che questo non girasse un'altra cosa che ci vorrebbe infatti investire l'assessore ma ovviamente no mai ma ovviamente no veramente mai perché lei sente qualcuno che le tocca dietro la schiena lei si gira che cazzo è slender aiuto come se le darà aiuto aiutatello slender no ho detto slender aiuto si salvi chi può dallo slender si salvi chi può sarebbe allora dillo scusa lo devi dire devi dire stiamo girando a cazzo lo so ci siamo persi non è colpa mia non è colpa mia non è colpa mia non è colpa mia per forza l'unica ovviamente e vediamo dove arriviamo andiamo al cesso mi sa un'altra volta meglio meglio ma come andiamo al cesso che cos'è non ci troviamo cosa è vero ci troviamo vicino al tunnel e ci troviamo vicino vicino ai tronchi tagliati ai dolmen dove c'è tutta la letta dello slender che schifo accetta quante pagine stiamo 4 4 pagine 4 pagine quindi si arriva mai i dolmen poi i tronchi tagliati e io madonna mia c'ho paura c'ho paura ma chi è che buona che tiene paura c'ho paura no vi giuro che c'ho paura se abbiamo la fortuna se abbiamo la fortuna di trovare la pagina al tunnel poi al camioncino blu poi al rosso e poi proseguendo per il sentiero lo troviamo anche a quest'albero spogliato l'abbiamo finito si allora a vista abbiamo 4 pagine ci rimangono ci rimangono soltanto 4 posti per vedere e appunto sto dicendo se noi andiamo nel tunnel poi proseguiamo il sentiero verso il camion blu il rosso e poi dove sta l'albero scusate se ci stiamo se abbiamo il culo dove stanno stefane ce ne qui a guarda il nome abissato adorare io devo andare un attimo c'è non è la piazza il giorno dopo il nostro xd burning light sta malato per metà malato un poverino tolex di benigni la tua verità quindi fatto ad un senso assinato l'influenzato che non mi aspetteremo addio guarda un po' che si trova canacca perchè non ho pensato che doveva morire c'è stato che era andato per un decesso e andare a prendere la pillola non si sente bene sono il messaggio del cesso del decesso nel cesso morire nel cesso non ha la stessa presa sul pubblico stiamo girando a vuoto lo so lo so lo so lo so tutto il male lo sappiamo perchè se perchè mannaggia mannaggia assente se mi avesse messo tanta paura per l'idea per essere spaventato molto appena che l'ho visto mamma mia ma non so neanche dove cazzo dobbiamo andare la testa sono i tronchi d'acqua aggiornaci la situazione per dove stiamo sulla mappa non lo so ci siamo persi ci siamo persi maledetto slender può finire che ti uccido sul serio va a finire ti ammazzo lo ammazzo sul serio ti giuro che lo ammazzo sul serio non lo so non riesco a vedere non fa niente che ci perdiamo l'importante che diciamo se non abbiamo ancora preso la pagina perché c'è sul migliore svento e che c'è sul mio il cazzo si chiama spettacolo scuola e svegliere ma se è vero ok i corretti di bambini di rete perchè questo bambini rispondi se stasola del corno non abbiamo visto nessuna pagina stasera tu guarda stocco uomo cest si sta spegnendo non vedo niente vabbè già di solito non si vede niente vabbè già da quando prendiamo la pagina ma che cazzo ma che cazzo perfetto vedo l'albero spoglio eh lo vuoi vedere spoglio si dice si dice albero spoglio perchè non c'è le foglie adesso se tu segui il sentiero eh ovviamente sempre se c'è la pagina si trova attaccato al tronco davanti a noi e comunque dico se c'è ti senti il sentiero no non c'è la pagina attaccata attaccata all'albero davanti ma non a girare l'albero perchè altrimenti trovi la strada quindi non a girare se la pagina sta qua però non c'è non c'è non c'è corri corri muoviti adesso devi correre e andiamo dove sta il camioncino il camioncino assolutamente dove andare al camioncino ora però almeno aspetta un attimo vedi se lo vedi e' un breve adesso non vedo un cazzo vedi l'erba c'è l'erba porca putt ah eccolo qualche leggino russo dove cazzo stai? qua sto al camioncino russo no dico la pagina la pagina non lo so dove sta sulla casetta dove sta sulla casetta dove dove sta sulla casetta dove ecco fatto allora vai prendi vediamo forza ragazzi prendi da cazzo sta faccia forza dietro no va beh corri 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 dai corri 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 no ti prego corri 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 dai per piacere non vengono non voglio non voglio morire di nuovo slender non puoi vivere slender non puoi vivere, non puo non puo neanche morire ok siamo sul sentiero quale sentiero? ma mica stiamo tornando indietro stiamo andando avanti stiamo andando indietro ok è finito il sentiero siamo su tutti continua dritto continua dritto c'è un cazzo di camion c'è un cazzo di camion mi ha colpito il camion non di girare non c'è niente no dall'altra parte è da lei dall'altra parte non ho tempo di girarmi dall'altra parte aspetta gira leggermente a sinistra se stessi non è leggermente 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 il tunnel sta laggi non prendere la punta e' questa si sta va bene ma non ci sono le zone non è la sala del volo ecco 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 l'ho vista la vedo la vedo eh la vedo eh la vedo oh mori corri 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 torce no ti prego torce non farlo No, 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 ti prego Torcia no Dove sta i trunchi? Torcia no Ti prego no No, Torcia No, Torcia Torcia no No, Torcia no Torcia no, ti prego No, non ci sta No, non ci sta Non ci sta, non ci sta No, non ci sta Ma sta l'erano Sono qua i trunchi Deve la stanza forza qua Sicuro? Si Si Eccoli qua i trunchi Eccola la macchia Corri, corre, corre Forza Cazzo di invornita Corri Corri,corri,corri,corri,corri,corri I tre peni No,no,no,girati,girati,girati Siamo vivi,siamo morti Ma come? La cosa,vabbè però siamo a 6 su 8 dai Siamo a 6 su 8 E così è la stessa cosa in tutti quanti i tentativi Ah me ne ho proprio accorto Bene Vuol dire che il metodo non funziona No non funziona E' Slender che non lo fa funzionare Questo è il problema E' Slender che non lo fa funzionare Sempre se suono Perché è Slender? Sempre Dice una motivazione Perché? Aspetta La colpa sono delle pagine che non dovrebbero stare nei luoghi in cui non dovrebbero stare E se facciamo una panoramica in senso In quale senso? O radio Cioè albero Prima Prima auto Seconda auto Tunnel No il muro dobbiamo farlo per primo No il muro dobbiamo farlo per primo perché è difficile E allora dobbiamo fare così Dobbiamo andare a destra Poi al prossimo non dobbiamo andare al megadirdo Dobbiamo andare qua Abbiamo prima accessi Poi tagliamo per i tronchi E andiamo al muro a X Eh però poi dobbiamo tornare di nuovo indietro Per facciamo il giro Facciamo il giro ha detto Ah il giro Ha detto Prima tagliamo per il muro Sì E poi dopo essere passati per il muro Ci facciamo tutto il giro Per poi finire all'interno al cesso Giusto Ottima idea Anche se non credo che funzionerà Però proviamo Allora Quindi Prima dobbiamo passare in mezzo ai lill Ai lilli Ai lilli Ai lilli Ai lillini Ai lillini Poi passiamo per i tronchi Ah capito Capito Sperto Un po' di erba Un po' di albaccio Dobbiamo mettere Ok basta A metà massima Vabbè basta 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 Perfetto Bene Bene così Startiamo il game Un'altra volta Ok Ora Adesso si vede che Il sentiero Il sentiero Stavolta Lo slendy Ha tagliato bene Verba Davvero molto bene Molto molto Dove dobbiamo andare Prima Ora Dobbiamo andare Sempre al A cesso Dobbiamo andare in direzione Del cesso Però ai lilli Barilotti E il megadildo? Il megadildo Il megadildo Dopo che abbiamo preso il muro Ah fa il giro Eh Dopo che abbiamo preso La pagina al muro Se ci sta la pagina al muro In questo caso Dobbiamo pregare Che c'è la pagina al megadildo Se non c'è la pagina al muro Meglio 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 Tappos Perchè 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 fa così Non so Non so Non so E' pulito Lo devo chiedere Perchè fa così E lui ti ha risposto Non lo so Neanche io non lo so C'è la subarubaracca cacchite Non so C'è un cesso E' il nostro cesso Ah il nostro cesso Il nostro caro amico cesso Caro amico cesso Ti scrivo perché Sto pervenire da te Dobbiamo correre No Spero che ho La tua abitazione Non è ancora Di livello Stiamo andando Diversi Stiamo andando Diversi Perchè Cerchiamo la pagina Prima dei lilli Prima dei lilli Poi continuiamo I tronchi tagliati Perchè dobbiamo cercare Prima dei lilli Perchè è facile Forse Funzionerà il tuo E poi tagliamo a metà Ah come abbiamo Come hanno tagliato Gli tronchi Tagliamo pure noi Esatto Dove la pagina Ah eccolo no Non ce la pagina Sta qua la pagina Dei lilli Perfetto Ora dobbiamo continuare dritto In direzione dei tronchi Ah in direzione dei tronchi Perchè dobbiamo I vari a dire Verso di qua Verso Nord Sud Est Oeste Ovest Non ti blocca Non ti blocca Non ti blocca Non i miei zaialbi Non ti blocca Maledetti Maledettissima Non ti blocca Dove Dove cazzo stanno Dove cazzo stanno I tronchi tagliati Dove cazzo stanno Fa Tutti mi ricordi Ah stanno qua Sono qua Niente Infatti stanno qua Eh Non li vedo Eh Non li vedo Non li vedo Eh cazzo non ce l'ombra Cioè non c'è Non c'è la nebbia Infatti non ci stanno I tronchi I tronchi I tronchi sono spariti i tronchi Cazzo Se l'ha fatto di uno slender sicuramente Però c'è il muro intanto E' il nostro obiettivo 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 Buon che facciamoci Gino da questa parte Si per forza Non slender non ti azzardare Sennò ti azzardare Se no ti 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 rompo Ti rompo Ti rompo Giro parlo giro, paro, nami scusa, potremmo fare direttamente al tunnel? stanno andando direttamente al tunnel? come preferisci però qua ci stanno qua ci stanno quegli altri i dolmen, dici? la è difficile la vero, i dolmen è difficile infatti andiamo prima la eh, se troviamo i dolmen prima dobbiamo trovare un sentiero che si dirige verso sinistra verso sinistra non verso destra ma verso sinistra non c'è nessun sinistra sinistra, eccoli da però non li vede quindi non sono sinistra devi controllare a sinistra a sinistra a sinistra, a sinistra leggera a sinistra ecco infatti la pagina da che è sto? il nostro mistero ho la pagina chiude di più adesso siamo andati a stupere subito no, continuiamo al giro panoramico ah, al giro panoramico eh, ma mo ci perdiamo un pochino perché mo stiamo andando al cesso no, ora stiamo andando verso il... megadildo eh, ah, il megadildo perfetto eh, il mio problema è questo il megadildo tu sta seguendo il sentiero già ma guarda un po' guarda un po' che coincidezza giusto il sentiero non andando in mezzo all'erba il sentiero è questo lo slender già ha tagliato l'erba non ci bisogna di tagliarla non ci bisogna di tagliarla non ci bisogna di tagliarla ma non ci tengo a tagliare l'erba che slender è male destra destra leggermente leggermente eh, ma non pesantemente leggermente leggero, leggero, leggero qui c'è una grande curva qui c'è un grande curvone e c'è l'interferenza c'è l'interferenza si vede che anche lo slender ha preso il curvone c'è l'interferenza porca puttana porca di quella mi metto ha capito il nostro giro porca puttana ma porca puttana ma guarda che fio di puttana fio di una mignotta sto mignottone ecco non bisognava dirlo altro l'importante è ammetterlo che lui è un ora dirigiamoci verso il tunnel questo punto questo punto girare verso il tunnel e mo vuoi dire che mi ha fatto non ho l'altro giro dobbiamo tornare la nuova e va a fare l'unico va a fare l'unico va a fare l'unico che cazzo ci fa a fare colpa sua colpa sua è colpa tua è colpa tua colpa tua che c'è l'unico dai ragazzi hai detto slender almeno per una volta a me è colpa mia per una volta per una volta leggera interferenza di muro ma sei stronzo però ma sei bastardo e vabbè qua c'è qua c'è come si chiama ma non possiamo dire sempre a fare ma faccia fare almeno un giro panoramico andiamo ai cessi andiamo ai guardi andiamo a cessi no il barilotti già si è avuta niente quindi possiamo superare quindi possiamo superarli senza problemi ollei para papa 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 corri bambina corri 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 pazzina corri bambina prenderei fiato dopo prenderei fiato nei cessi dove c'è la merda dello slender perfetto ingresso dei cessi trovato chiusa no speriamo che non è occupato permesso avanti che fesso permesso esso 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 andi che fesso vabbè questa far ride dai da che cazzo sta pagina live me alone eccola qui lasciami solo ho scelto questo live me alone non è anche una canzone di michael jackson ma va ma non mi dirlo te lo sto chiedendo a tex di super black h perchè tu lo conosci ah cioè perchè tu sai ho avuto l'onore di conoscire di persone aspetta ma in modo dove andiamo sinistra o destra è la stessa cosa dipende da dove vuoi andare non fai il martin non stare troppo a lungo se dobbiamo fare il giro panoramico allora andiamo a sinistra siamo andati a destra ok no 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 giusto adesso adesso lo facciamo se andiamo a destra facciamo il giro panoramico perfetto perfetto quello che volevo perfetto adesso dove andiamo a destra a sinistra ora ci sarà l'albero impicciato l'albero impicciato sarà d'altra parte a sinistra dobbiamo andare a sinistra seguiti il sentiero seguiti il sentiero ecco cosa ti dico seguiti il sentiero adesso segui il tuo cuore no no vi prego non ti devi seguire il mio cuore perché il mio cuore allora porta slender ah tu ami slender no tu ami slender il tuo cuore è legato a slender no io lo odio slender però non riesco a capire ogni volta dove vado io c'è sempre slender ma è ovvio appare sempre slender appare sempre slender perché io scelgo sempre le strade più tranquille poi quando mi non te lo aspetti appare slender seguitare dalla tua sfiga fulgoncino blu e la paella pagina sta sul cosolo cazzo sta sul cosolo venga adesso sinistra adesso sinistra avanti indietro adesso scorreggiamo adesso andate subito adesso il tunnel dove sta il tunnel sta anche il camioncino no e siamo sull'erba ma che cazzo eh però ci spero siamo sempre sul sentiero ricordati giusto ricorda figliolo siamo sempre sul sentiero disse che si capta legnata perché siamo sempre sul sentiero guarda ah ok non se ne ho accorto no infatti all'es verità sa qua sa qua sa qua anche se ne l'ho vista davvero colorito 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 né legata non si non lo so non lo so non lo so ma non lo so non chiedemmelo ah dove stanno gli alberi tagliati già ci sono andato nooo dobbiamo andare dove sta il mega tildo dobbiamo andare al mega tildo dobbiamo andare al mega tildo dobbiamo andare al mega tildo porta porca puttana porta puttana eva porta puttana chi porta la puttana no non vorrei mai ah meno male porta la beta perchè devo portare la cazza di slender beh non lo so però farlo ti farlo sai che ti dico neanche per sogno prendi fiato dopo corri adesso così se finisci di slender potrai riposarti per tutta la vita infatti potrai riposarti per tutta la vita ti prego senti prego sender lasciaci vincere lasciaci vivere infatti proprio ne abbiamo abbastanza lasciaci vivere devi lasciarci vivere e tutta la scopreggia da culo una canzone che ho inventato io mi piace? te lo scasso il culo slender se ti azzardi a prenderci già te lo distruggiaaa corri 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 vai 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 corri muoviti che cazzo stai mandando? non ne ho idea non mi interessa no non ti stancare non ti stancare no non ci provare ci ha già provato non ci provare no 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 ahahah eh no 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 veri per forza infatti siamo troppo allo scoperto ma che cazzo ma no vabbè ci penseremo al prossimo episodio ci penseremo al prossimo episodio vabbè noi come potete vedere abbiamo riprovato di nuovo e abbiamo fallito ovviamente 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 abbiamo sentato vabbè però almeno abbiamo capito vabbè almeno abbiamo capito come cazzo fare per completare ogni volta che ci stiamo provando ogni volta che ci stiamo provando ci stiamo sempre stiamo imparando stiamo imparando sempre di più a vedere come aggirarlo come aggirarlo vabbè concludiamo qui questo perché infatti l'unica cosa in cui sbagliamo è che ci facciamo perché ci facciamo prendere dalla sesta pagina dalla sesta pagina dobbiamo andare in mezzo agli alberi e dobbiamo andare in mezzo agli alberi questa è l'unica cosa che sbagliamo ovviamente vabbè grazie perché se tu corri ovviamente la torcia la tieni in basso non la puoi tenere in alto ovviamente perché la torcia pesa pesa molto la miseria ma se io pesa io non ho capito vabbè anche se lo direbbe ogni tanto dalla sesta pagina in poi girarsi vedere dove è slender e intanto camminare all'indietro poi girarsi e subito ricordarsi per vedere dove sta non funziona no non va non va non va vabbè no perché slender qua non si muove ti segue no 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 in questo gioco in questo slender quando lo guardi non si muove sì vabbè concludiamo prima che stai zitto stai zitto vabbè concludiamo qui questo fantastico ovviamente fantastico sentiamo la pella di saggezza del nostro xd burning light passiamo la voce slender non lo disturbare ecco devo meditare perché devo ricercarmi nei profondi archivi medita medita di burning light devo cercare la pella di saggezza per questo episodio per la di saggezza di xd burning light tratto dalla vita contemporanea moderna e da tutte le attitudini umane chiunque ha la ricerca di alcuni obiettivi nella propria vita origini chi siamo da dove veniamo perché siamo qui la risposta principale a tutto questo lo saprete nel prossimo episodio ok non ci sarà un prossimo episodio perché non lo so neanche io cazzo voglio dire giusto giusto la risposta è meh 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 ok concludiamo qui questo fantastico video bilis è battente sì guardatelo la pella di saggezza guardate bilis è battente giusto guardatelo vabbè noi ci vediamo nel prossimo video sempre se ci sarà qui da xd suburbano xd capital legnata xd burning light xd suburbino che è morto che è morto ci vediamo alla prossima è morto è svenuto con doglianza xd suburbino ciao iscrivetevi mettete tanti mi piace e commentate per la disaggezza e seguite sempre per la disaggezza del nostro xd burning light ciao